Negli ultimi mesi, caro Friedrich, hai scritto libri eccessivi, ti sei autodivinizzato. Sinceramente, alla fine, non ti sembra di averla fatta un po' troppo grossa? Tu mi appari come un pazzo che ha voluto giocare con la filosofia, piuttosto che uno intenzionato a dare un contributo serio all'evoluzione di tale disciplina. Ma come ti è successo? Semplice. Educazione repressiva. Fallimento professionale. Sindrome maniaco-depressiva. Crisi della mezz'età. Non dimenticare che ciò è accaduto all'età di 44 anni, età nella quale molti si considerano arrivati. La mia è una sindrome maniaco-repressiva con forti tratti di atapismo. Come ho scritto in Aceomo, io sono già morto, come mio padre, e ancora vivo come mia madre. Tu però sorvoli sul fatto che grazie a questi miei problemi è potuto venire fuori il mio genio. Vedi, Grieco, genio e follia sono parenti stretti, come già il nostro Schopenhauer ha messo in risalto. Chi può dire dove finisce l'uno e dove comincia l'altra? Ma questi tuoi problemi, per la verità, io li ho visti fin dall'inizio. E non solo io li ho notati, ma anche filologi rispettabilissimi, come il grande Molendorf, che definì il tuo primo lavoro, La nascita della tragedia, un'opera che mostra ignoranza e scarso amore della verità. Io mi trovo d'accordo, perché essendo uno studioso di Schopenhauer, mi è apparso subito evidente il capovolgimento che tu hai operato del significato estetico di questa sublime arte esaltata dal grande pensatore di Danzica. Ti confesso, caro Friedrich, che quando ho aperto questo tuo primo libro mi è venuto da piangere e il pianto poi si è trasformato in orrore con la lettura dell'Anticristo, l'ultimo tuo capolavoro prima che diventassi definitivamente pazzo. Caro Greco, il mio genio è ancora di là dall'essere compreso. Io ho mostrato il nichilismo dopo aver disvelato le presunte certezze religiose e metafisiche. Mi dichiaro un nichilista perché ho dimostrato il carattere menzognero delle presunte verità. Ma il nichilismo per me ha due significati. C'è un nichilismo passivo, prodotto dall'atteggiamento di arrendevolezza e distordimento di fronte all'insensatezza del mondo. E' un nichilismo attivo che consiste nel mettere in discussione i valori della tradizione, non ponendone però di nuovi per non ricadere in altre menzogne metafisiche. Ora, fai bene attenzione. Io rifiuto il nichilismo passivo e vado oltre quello attivo. Tendo ad un nichilismo radicale che, dopo aver annullato i valori supremi, deve riproporre un nuovo senso delle cose. Da qui la figura dell'oltreuomo, dello Jubermensch, che deve dare un senso alla caotica mancanza di senso del mondo. Deve reinventare il senso del mondo, ma non attraverso altre favole metafisiche o religiose. Piuttosto, nella consapevolezza che il mondo è caos e che l'uomo ne è al centro e lo reinterpreta. La filosofia non deve andarsi a perdere dietro la verità, perché non esiste la verità. Essa è piuttosto ricerca di un senso, anche se questo dovesse essere insensato, cioè scontrarsi con la verità. Lo Jubermensch, insomma, dovrà sopportare la morte di Dio, l'annullamento dei valori, e riemergere, ovvero rielaborare la sua condizione del mondo. In che modo? Accettando la sua condizione tragica e vivendo nell'eterno presente con gioia. Ogni atteggiamento di rinuncia e di fuga nei confronti del mondo, che io vedo incarnati nel platonismo e nel cristianesimo, è per me una volontà del nulla, ossia ciò che rappresenta un pericolo da fuggire, così come la situazione dell'uomo moderno contemporaneo, che non credendo più nei valori supremi, né in un senso o uno scopo metafisico delle cose, e pensiamo agli esistenzialisti, finisce per avvertire di fronte all'essere lo sgomento del vuoto e del nulla. Ecco, questo venire meno dei valori supremi, cui l'Occidente, a partire da Platone, si è affidato, scaturisce dall'illusione che io per primo ho svelato come tale. Perdonami caro Friedrich, ma faccio fatica a seguirti. Ammesso tu abbia ragione, qual è la verità che fai subentrare al posto di quelle illusioni? Tu hai eliminato quei valori, come dici, ma non ne hai fatti subentrare altri. Ma così si cade nello svuotamento totale di senso. Ecco ciò a cui conduci. Tu, grieco, chiami svuotamento totale di senso ciò che io chiamo liberazione. Tu non hai la più palida idea di cosa ho fatto io in filosofia. Vuoi che ti enunci i miei meriti? È presto fatto. Sono stato un pensatore controcorrente, uno che ha liberato il pensiero dall'illusione della metafisica. Tanto che Heidegger, che mi studiò per una vita, disse che con me la metafisica occidentale in filosofia si è conclusa e non è poco. Ho influenzato l'arte moderna e il successivo modo di pensare, aprendo una nuova era, quella del relativismo, del prospettivismo e del soggettivismo moderno, che ha portato a Freud, Heidegger, Sartre e quindi all'esistenzialismo. Freud scoprì l'inconscio e la liberazione degli impulsi, non solo sessuali, proprio grazie a me. Copiò interi aforismi modificandoli solo un po', senza mai citare le vere fonti di ispirazione. E qui la disonestà anche intellettuale di Freud è stata ormai provata, vedi, Onfrey. La mia, caro Griego, è una filosofia dello sviluppo della personalità. Il mio oltreuomo, in buona sostanza, è l'aspirazione a volare in alto, per trarre il massimo dalla nostra unica vita qui sulla Terra, tramite la volontà che tutto può, e non nell'iperuraneo che non c'è. Insomma, ho insegnato ad amare stoicamente il nostro destino, qualunque esso sia, l'amorfati. E non dimenticare che sono stato molto più che un semplice filosofo. Sono stato un poligrafo, un filologo, l'artista e stilista letterario più grande dopo Goethe, persino un musicista. In ogni caso, un grandissimo scrittore da aforismi e poemi. Infatti, lo Zaratustra è un poema filosofico che annuncia la morte di Dio e la nascita dell'uomo nuovo, raffigurato dal bambino. Filosofare con me vuol dire pensare criticamente con la propria testa e null'altro. Ho insistito sullo sviluppo delle potenzialità umane, con il mio motto, diventa quel che sei, al di là dei condizionamenti asfittici castranti del pensiero dogmatico benpensante cristiano. Ho insegnato che la vita va vissuta pieno qui sulla Terra e non nel cervellotico iperuraneo platonico cristiano post mortem. Della propria vita bisogna farne un'opera d'arte che nell'ipotesi di un eterno ritorno varrebbe la pena di essere rivissuta, identica fino all'infinito. Tutto ciò, grieco, non sarebbe forse un valido pensiero filosofico? E tu lo chiami sviluppo di senso? La mia grandezza sta in questo. Sono stato la figura del filosofo artista che ha visto molto più lontano di altri e pertanto posso dire di essere stato il primo a parlare di verità e di menzogna come menzogna. Io questo discorso non lo prenderei così alla leggera, caro Friedrich. Per me è una cosa molto grave. Vedi, con te si è conclusa la metafisica e con lei la ricerca dell'ontologia intesa come principio di realtà di ciò che è e mai diviene, per dirla con Platone. Cioè, la ricerca dell'uno nel molteplice, vale a dire l'essere immutabile al di là dei fenomeni transeunti. Quindi, si è conclusa la ricerca della cosa in sé kantiana che tanto aveva impegnato le indagini sia di Kant che di Schopenhauer. Quest'ultimo, con lo zelo di una vita, si era affannato a dimostrarla nella volontà. Tutte queste cose, caro Friedrich, vengono seppellite in un sol colpo con la tua filosofia e quindi tu degreti la fine della filosofia. Questo non è un bene, caro Friedrich, perché il relativismo e l'esistenzialismo che ne sono seguiti non hanno dato risposte all'uomo sui grandi temi dell'umanità, sui grandi temi della vita, ciò che ci si aspetterebbe dalla filosofia. Queste correnti hanno chiuso l'uomo nella dimensione materiale ed esistenziale. Quando l'uomo ha aspirazioni spirituali che non possono essere ignorate o cancellate, come pretendeva Marx. Inoltre, l'uomo è colpito dal sauma dell'esistenza, di questa esistenza così oscura, penosa, scabrosa ed enigmatica, e cerca delle risposte. In aggiunta, devi considerare che ad un certo punto della sua vita, l'uomo prende coscienza che la vita stessa è un'illusione e che il suo destino finale è la morte. E dunque, quando un soggetto contemplante fa queste considerazioni, il suo spirito potrebbe anche innalzarsi alla filosofia, ossia ad una qualche forma di metafisica, alla ricerca di uno stralcio di risposta. E dunque, come la mettiamo quando l'uomo si accorge che una tale metafisica è morta ed è stata seppellita da un pezzo, e le sue indagini, invece di prendere la direzione dell'universale, hanno preso quella del particolare, a causa tua, che hai colpito a morte la filosofia, e poi di altri che ti hanno seguito e gli hanno inferto il colpo di grazia, e mi riferisco ad Heidegger, Derrida, eccetera. Questo è il problema, caro Friedrich. Tutto ciò ha creato uno smarrimento nell'essere umano moderno, che non sa a cosa attenersi, e lo porta di conseguenza a struggersi nel dubbio eterno. C'è addirittura chi sostiene che la filosofia sia un processo continuo di costruzione, una scienza che va discussa e che si rinnova rispetto alla verità che è in continua trasformazione. La filosofia, si dice, si rivoluziona esattamente come le scienze, secondo le analisi di Kuhn. Dunque, la verità sarebbe come un fenomeno che si trasforma nel tempo, anzi addirittura un fenomeno che segue la storia. Questo è l'obrobrio hegeliano. Sicché non ci serve più studiare Platone a distanza di oltre due millenni, perché quello che ha detto lui nell'antica Grecia è completamente cambiato, oramai superato. La conseguenza è che oggi tutto viene ridotto ad opinione, in un sistema di relativismi senza senso. Questi sono i danni gravissimi, abbiati forse inconsapevolmente da te, caro Friedrich, e alimentati sicuramente da coloro che ti spacciano per filosofo. Questi sono danni al cospetto dei quali quelli provocati dal nazismo sono un'inezia. Bisogna mettere in evidenza, infatti, caro Friedrich, che con la scomparsa della metafisica scompare anche l'etica, quell'etica che Schopenhauer aveva solidamente saldata alla filosofia e fu in unità anche con l'estetica, quell'etica che tu, Friedrich, hai attaccato furiosamente e che dovrebbe rappresentare al contrario il punto focale della filosofia. Di conseguenza, l'uomo non avrebbe nient'altro da fare che vivere, agire, conservare la propria vita fin tanto che dura e badare al proprio utile. Incidentalmente, voglio far notare che è molto facile controllare le persone se queste credono di essere frutto del caso, se pensano di esistere solo grazie ad alcune reazioni chimiche e di sprofondare nuovamente nell'obbligo dopo la morte. A tal proposito, ci si può chiedere, questa manipolazione odierna assorta a fenomeno di massa non potrebbe essere la conseguenza anch'essa della tua distruzione della filosofia? Sicché tu, Friedrich, non solo a tua insaputa avresti fatto il gioco del nazismo e di una certa sinistra postuma che ti ha fatto proprio, ma staresti facendo, sempre inconsapevolmente, eh, intendiamoci, staresti facendo addirittura il gioco del capitalismo consumistico e globalizzato di quest'epoca. La tua filosofia, a pensarci bene, ruota intorno all'individuo e ai suoi istinti e molti vi vedono l'espressione dello sconfinato egoismo insito in loro che alla fine va a sfociare in quell'edonismo consumistico nel quale l'uomo sfoga nelle merci i suoi primordiali istinti, senza un passato né un futuro ma vivendo nella distruzione di ciò che crea nell'eterno presente quindi questo sarebbe lo Ubermensch capitalistico e se a tutto ciò ci aggiungiamo lo sviluppo in modo quasi esclusivo della cultura del pensiero scientifico supportato dalla tecne il gioco è fatto, caro Friedrich. Insomma, voglio dire, la crisi moderna si potrebbe leggere anche in questa chiave e tu ancora una volta potresti esserne l'ingenuo responsabile sicché ciò che hai previsto a causa della morte di Dio potrebbe essere invece causato dal tuo pensiero ancora vivente. In breve, ti si è ritorto contro ciò che tu stesso non ti saresti mai aspettato e né augurato e questo proprio in ragione del complesso della tua opera dove non c'è una sintesi chiara dei significati dove non si sa cosa significhi la figura dell'oltreuomo dove in breve c'è solo la pars distruens e non quella costruens. Vedo che tu non mi vuoi capire. Tutti i filosofi, caro grieco, subiscono un ribaltamento del loro pensiero a causa del fatto che non vengono compresi e questo è stato anche il mio caso. Io con il nazismo, il fascismo, la sinistra e addirittura il capitalismo non c'entro nulla. Io sono il filosofo della vita anche se questa presenta la sua componente tragica al suo fondo. Se Schopenhauer ha parlato di arte come il quietivo del volere come tappa intermedia verso la redenzione io, al contrario, vi vedo nell'arte la massima manifestazione della forza vitale degli istinti la rappresentazione del Dionisiaco del concetto di verità in senso alto del termine io non so cosa farmene perché non esiste affatto. Tutto è in divenire per me e non solo per me oggi questo è confermato anche dalla fisica quantistica per cui è inutile cercare punti fissi come si è fatto fin dai tempi di Platone. Io sono un relativista un prospettivista un fautore del soggettivismo non esiste alcuna verità se non quella soggettiva appartenente ai singoli individui la mia dunque è una filosofia vitalistica che si oppone a quella rinunciataria misticheggiante e simile al buddismo di Schopenhauer. Vedi attendere la morte in stand by per non soffrire mi sembra non solo vile ma persino stolto sprecare un'esistenza rifiutando la volontà vitale è ancora più castrante del cristianesimo stesso ed in effetti nemmeno Schopenhauer seguì mai lo stile di vita che lui tanto predicava. Essendo ricco di famiglia il nostro caro Arthur si concedeva ogni soddisfazione e lusso compresa le donne a ore a pagamento altro che rinunciatario. Vedi le critiche che tu muovi a me sono quelle tradizionali di sempre quelle dell'accademia italiana io sarei solo un assistematico confuso persino un folle che non può essere nemmeno chiamato filosofo non avendo mai scritto nulla di propositivo e né di sistematico. È ovvio che non condivido questa visione miope prevenuta da accademia polverosa e sterile. Diego se non riesci a comprendere la mia vera natura di artista-filosofo o di filosofo-artista molto metaforico non mi potrai mai capire perché sei ingabbiato nella stretta visione accademica tradizionale del concetto di filosofo. Per chiarire questo ti prendo un pensiero relativistico antiverità preso dall'Aforisma 575 libro quinto l'ultimo di Aurora intitolato Noi aerei naviganti dello spirito ebbene io qui dico tutti questi arditi uccelli che spiccano il volo in lontananza nell'estrema lontananza di sicuro a un certo momento non potranno più andare oltre e si appollaglieranno su un pennone o su un piccolo scoglio e per di più grati di questo miserevole ricetto ma a chi sarebbe lecito trarne la conseguenza che non c'è più dinanzi a loro nessuna immensa libera via che sono volati tanto lontano quanto è possibile volare tutti i nostri grandi maestri e precursori hanno finito con l'arrestarsi e non è il gesto più nobile e il più leggiato atteggiamento quello con cui la stanchezza si arresta sarà così anche per me e per te altri uccelli voleranno oltre questo nostro sapere e questa nostra fiducia spiccono il volo con essi e si librano in alto salgono a picco sul nostro capo e oltre la sua impotenza lassù in altro e di là guarderanno nella lontananza vedono stormi di uccelli molto più possenti e grandi di noi i quali agognano quel che agogniamo noi in quella direzione dove tutto è ancora mare 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 e dove dovunque vogliamo arrivare al di là del mare dove ci trascina questa possente avidità che è più forte di qualsiasi altro desiderio perché proprio laggiù dove sono fino ad oggi tramontati tutti i soli dell'umanità un giorno si dirà di noi che volgendo la prua ad occidente anche noi speravamo di raggiungere l'india ma che fu il nostro destino naufragare nell'infinito oppure fratelli miei oppure vedi greco qui intendo dire che la verità non esiste vi sono solo interpretazioni e rappresentazioni della realtà ma che non conosceremo mai a fondo perché la nostra mente è troppo limitata sebbene sia già qualcosa di molto più efficace del cervello degli animali per via della possibilità di astrazione il tuo Schopenhauer grieco non è più vero di me proprio come nessun filosofo della storia ha mai avuto la verità in tasca io ho superato Schopenhauer perché insegna la rinuncia quasi monastica del buddismo che porta al nulla se non a rinunciare a vivere quest'unica vita e a giocare d'anticipo sulla morte il mio vitalismo ha molto più successo di me se ne parla sempre più vedi Freud Heidegger Sartre Marinetti D'Annunzio Deleuze Honfrey Galimberti eccetera mentre le teorie rinunciatari di Schopenhauer sono ormai relegate in soffitta ammetto che la genialità di Schopenhauer fu di scoprire la volontà insopprimibile di vita il ville presa però dal Conatus di Spinoza eppure il relativismo della nostra rappresentazione purtroppo però il maestro insegnò anche a soffocare questo principio basilare cioè il Conatus appartenente ad ogni forma di vita e Schopenhauer lo si può anche scusare perché ebbe un'infanzia infelice se non disastrosa per questo la sua massima di vita divenne quella di rifuggire da ogni possibile dolore tramite la rinuncia ma io dico è no caro Arthur questa è castrazione vitale non sviluppare le nostre potenzialità in attesa della morte è cosa triste vile come le cose non stanno così io ho cercato di superare l'ipocrita morale cristiana o meglio quella bigotta vittoriana ottecentesca con l'insopportabile perbenista oppressione degli istinti vitali quindi io sono il liberatore dell'umanità dalla morale da schiavi in questo sono stato l'ispiratore diretto di Freud che pur avendo ammesso di possedere tutte le mie opere per mera ipocrisia aggiunse subito di non averle mai lette Freud appropriandosi furtivamente di me persino nella teoria dell'inconscio voleva passare come il primo e solo genio scopritore in realtà Freud senza di me non sarebbe mai esistito come pensatore ma nemmeno come fondatore della psicoanalisi fanatici della pubblica morale lasciatemi perdere perché non mi capirete mai purtroppo caro Friedrich nella tua foga di prediligere gli istinti vitali non ti accorgi di banalizzare le questioni e si tratta di questioni importanti le più importanti in assoluto per l'essere umano per chi si è assunto il compito di fare filosofia criticarti è un dovere morale perché tu sei un personaggio che non si può ignorare nel bene come nel male per quello che hai rappresentato di negativo nel secolo scorso tu non sei una nota di merito insieme alla filosofia bensì di demerito hai ingurgitato non digerito e poi vomitato Schopenhauer e lo spirito del suo pensiero oltre all'etica cristiana la cui avversione è in realtà un rigetto dell'intera filosofia del maestro di Danzica l'esistenzialismo che ne hai seguito è un'aberrazione si avviluppa su se stesso e non dà alcuna risposta chiara ai problemi esistenziali dell'umanità inoltre voglio dirti caro Friedrich che la psicoanalisi anch'essa susseguitasi alla tua opera è addirittura falsa o perlomeno da riscrivere perché Freud dal canto suo più che da te l'ha sviluppata a partire da concetti mistificati non digeriti anche lui presi a prestito quella dalla dottrina di Schopenhauer il problema è che molti ti leggono senza aver studiato la filosofia classica e moderna senza conoscere Kant e Schopenhauer e vengono abbagliati ammaliati e pesantemente traviati dai tuoi giudizi sui filosofi e sulla filosofia in generale e non parliamo solo di gente comune ma di insigni luminali della cultura vedi Friedrich per comprenderti veramente nel panorama filosofico bisognerebbe prima studiare la filosofia e poi leggere le tue opere solo così il tuo pensiero si può soppesare con la giusta bilancia e di conseguenza valutarlo per ciò che effettivamente rappresenta ossia pura follia tu Friedrich non avendo riconosciuto il male essenziale della volontà con cui Schopenhauer ha impostato tutto il suo discorso filosofico non solo non hai penetrato lo spirito profondo del maestro ma non hai compreso neanche l'essenza della volontà di potenza su cui tu stesso hai basato il tuo filosofare ora se non si comprende il male insito nella volontà non si comprende la volontà e questa non è una cosa da poco al contrario si tratta di un punto cruciale se io dichiaro che gli istinti fanno parte della radice del mio essere e ogni loro manifestazione mi conduce verso la sofferenza e tuttavia continuo a dargli sfogo non ho capito un bel nulla è come essere di fronte ad un fumatore incallito che sa che le sigarette fanno male e nonostante ciò continua a fumare perché è dipendente dalla nicotina evidentemente in realtà costui non ha ancora preso coscienza del male poiché l'effettiva presa di coscienza deve spingere ad un cambio di direzione nel suo caso a lottare con tutte le sue forze per smettere di fumare insomma se uno comprende passa all'azione se la volontà è il male io la devo negare tu hai ammesso sì l'idea di una forza irrazionale a fondamento del mondo cioè la volontà di Schopenhauer ma al contrario hai respinto puerilmente la nozione sinistra che ne aveva prospettato il grande pensatore rinominando la volontà di potenza e annoverando la quale forza benevola è semplificata essenzialmente dal tuo famoso Ubermensch siamo di fronte al ribaltamento della filosofia con te siamo all'antifilosofia quando tu ti scagli contro l'etica cristiana in realtà ti stai scagliando contro Schopenhauer perché la tua versione al cristianesimo è la manifestazione più palese del rifiuto dell'anno luntas e della paura di quel nulla elogiato dal maestro a cui conduce la più alta forma di ascesi mistica se si tenta di tradurla con le categorie razionali naturalmente questa ascesi è un'andata verso il nulla ma non si tratta di un nulla assoluto si tratta di un nulla relativo su questo la filosofia Schopenhauer si accorda magnificamente sia con il cristianesimo sia con il buddismo dunque tu hai commesso il grave errore di vedere questa conclusione cioè il risultato etico della filosofia Schopenhaueriana e quindi l'etica cristiana come una forma di fuga o peggio ancora di castrazione quando si tratta in vero di tutto l'opposto vale a dire di riconoscere affrontare prendere alta consapevolezza del dolore e superarlo l'ascesi quindi non è una sconfitta bensì una vittoria e qui bisogna fare molta attenzione la negazione Schopenhaueriana della volontà non significa castrazione come puerilmente l'hai intesa tu bensì trascesa andare oltre sublimare nella stessa chiave si può e si deve spiegare la tua rottura con Wagner in quanto il musicista nel Parsifal elogia la redenzione cristiana ora tu hai distrutto quest'etica sì ma cosa hai costruito in verità nulla e la follia che ti colpì dopo il lavoro dell'anticristo è la prova più schiacciante che dimostra a quale grado di conflitto sei giunto con te stesso avviluppato nelle tue assurdità non potrò mai accettare la soluzione etica l'iter salvifico della negazione della volontà e del mondo data da Schopenhauer la scesi rappresenta lo scopo ultimo e il messaggio supremo di redenzione ebbene io questo lo rifiuto risolutamente il mio avvento in filosofia è nato proprio in seguito all'esigenza di trovare una nuova soluzione al mondo rispetto a quella per me improponibile posta da Schopenhauer l'elaborazione del pensiero tragico nella mia età giovanile infatti è proprio questo un modo di accettare eroicamente e tragicamente come gli eroi tragici il dolore della vita lo stesso dolore messo in evidenza da Schopenhauer come cose in sé del mondo ma senza bisogno di negare il mondo stesso con l'ascesi se tu leggi bene la mia nascita della tragedia io attacco tutte quelle figure più vili secondo la mia visione e manifestanti umana debolezza perciò io disprezzo tutti quei personaggi realistici e meno eroici di Euripide disprezzo tutta la cultura razionalistica che a mio avviso sostituendo la ricerca di verità agli istinti e alle funzioni vitali rappresenta anch'essa un atto di viltà io già in un piccolo scritto prima della Geburt criticavo la visione del mondo ascetica fondata sulla spiritualità in favore dell'esuberanza dionisiaca dei riti orgiastici che giunsero in Grecia dall'Oriente e che secondo me furono l'origine intima della tragedia in breve quello che io assumo senza ombra di dubbio da Schopenhauer è la concezione della vita come volontà come istinti e passioni come carnalità in antitesi al mondo razionale ma non potrò mai prendere in considerazione la soluzione etica della negazione della volontà questa per me è stata sempre una verità scomoda e fastidiosa ho rotto anche con Wagner è vero per la stessa ragione quando nel 1878 egli completò felicemente il libretto del suo Parsifal un'opera sacra ascetica e spiritualistica e me lo inviò con una cordiale lettera in quel momento io vedi il mio più venerato e amato artista progettare un dramma fondato interamente sui valori più espliciti e dichiarati dell'etica schopenhaueriana compassione rinuncia a qualsiasi passione e volontà ritiro mistico nella contemplazione del Graal totale castità e in definitiva tutto quello che è presente nel mondo cristiano a questo punto già messo alla prova dalla delusione del festival due anni prima mi trovai nel punto di svolta di tutta la mia vita come goccia che fece traboccare il vaso il Parsifal scatenò in me quel rifiuto sempre più evidente e progressivo sia delle speranze in Wagner sia di quelle in schopenhauer a partire dal Parsifal di Wagner e dalla mia opera umano troppo umano presi esplicitamente le distanze da entrambe queste due figure che così tanto mi avevano esaltato in gioventù cioè Wagner e schopenhauer proprio questo evento diede il via libera a quel mio lento e inesorabile processo di radicalizzazione delle idee che mi porterà nell'ultima fase a criticare pesantemente schopenhauer e tutta la sua figura io ho accomunato schopenhauer persino a Hegel in spirito decadente e in debolezza nei confronti della vita l'uno che si rifugia nell'assoluto l'altro nella rassegnazione e nell'ascesi nella mia fase matura ho abbandonato anche tutti quei sogni metafisici che avevo nutrito verso l'arte con l'apollineo e il dionisiaco tutto in seguito sia in me immaterializzato sia reso aforistico sprezzante e soprattutto liberatomi da schopenhauer ho iniziato ad attaccare sempre più il cristianesimo e ciò che esso ha rappresentato nell'occidente mi sono chiuso sempre più in me stesso e dentro le mie teorie dichiarandomi come l'unico tra tutti gli uomini a conoscere la verità e l'unico dunque sano in un mondo malato dal cristianesimo tutto questo ha una ragione ben precisa caro greco affermare la visione etica della potenza della forza dei valori aristocratici e soprattutto affermare la vita questo è ciò che mi ha sempre mosso e questa è l'unica cosa chiara che si può ricavare dal labirinto delle tue infinite contraddizioni caro frederich ma al filosofo che si chiede perché affermare la vita una volta riconosciuta come immersa nella più totale insensatezza perché affermare così tanto qualcosa che è sofferenza ecco a questo filosofo come rispondi rispondo che va fatto e basta perché l'istinto tirannico che è in noi vuole questo la vita deve essere ad ogni costo affermata non si può mettere da parte la vita per sostituirla col pensare alla vita come fece Socrate in questo modo nasce la decadenza in me il tragico deve essere vissuto innocentemente e con gioia perciò il mio naturam seguitur significa a seconda la natura e non farti domande non ti innalzare al di sopra di essa con una coscienza superiore ma vivi la vita solamente nelle passioni senza chiederti cosa significano inventa i tuoi valori e i tuoi mondi con la fantasia e l'innocenza di un fanciullo sopporta tutto ciò con gioia perché al di là o al di sopra o al di sotto della natura non c'è nulla c'è solo il presente nel suo divenire che si manifesta con l'eterno ritorno dell'eguale in breve non essere filosofo perché non ha alcun senso domandarsi il perché di tutto questo il saumazza in platonico aristotelico è una stupidaggine una fantasmagoria un'illusione da evitare perché potrebbe dare spazio a pericolose derive fantastiche metafisiche senza senso questo è il succo del mio discorso piaccia o non piaccia sarà anche il tuo discorso ma io non lo posso riconoscere come filosofico vedi caro Friedrich si fa filosofia perché ad un certo punto della vita in seguito ad un'attenta e profonda meditazione si riesce a comprendere il significato del mito della caverna di platone o ciò che voleva dire Kant quando degradava questo mondo a fenomeno cerebrale oppure quello che ci ha spiegato Schopenhauer quando diceva che il nostro universo è un macrantropo cioè proiezione della volontà umana dove rappresentazione e volontà sono gli unici due elementi costitutivi tu Friedrich non hai mai preso coscienza del carattere illusorio di questo mondo così evidente proclamato dai grandi pensatori della filosofia sei al contrario colui che dà spazio al realismo e di conseguenza all'esistenzialismo sei il filosofo della natura che però non si spinge a dire con Leopardi che essa è madre di parto e di voler matrigna bensì dici pure in mente ciò che tutti vogliono sentirsi dire e cioè che la natura è di voler benigna anche se in lei è presente il tragico il quale a tuo avviso non deve aiutare l'uomo a distaccarsi dal mondo ma a viverlo pur nella sua insensatezza tuttavia rifletti bene su questo quando l'uomo resta ancorato alla terra fa come gli altri animali cioè uccide altri esseri per cibarsi e perfino il suo simile se quelli scarseggiano la storia infatti dimostra che la vita umana è sconfinata e che homo homini lupus esattamente questo è ciò che prospetto restare fedeli alla terra hai compreso perfettamente il mio punto di vista anzi la mia visione del mondo non bisogna credere a coloro che parlano di sovraterrene speranza essi sono degli avvelenatori che lo sappiano no sono spregiatori della vita moribondi ed essi stessi avvelenati dei quali la terra è stanca se ne vadano pure ecco come parla il mio Zaratustra e parla così per una ragione ben precisa che ora ti dico io Friedrich Nietzsche riguardo la metafisica ho portato a compimento l'operazione avviata da Kant e non totalmente riuscita a questi Kant ha distrutto la metafisica solo teoreticamente con la ragione pura mentre io l'ho fatto praticamente togliendola di mezzo del tutto perciò oltre questa vita non esiste niente consentimi di correggere il tuo errore caro Friedrich quello che dici su Kant è sbagliato Kant non ha distrutto la metafisica Kant ha tracciato i limiti della ragione confinandola all'interno del fenomeno e ha lasciato alla metafisica uno spazio nella sfera morale sicché se è vero che la cosa in sé rimane una X per la ragione teoretica essa potrebbe non esserlo per quella pratica detto da parentesi qui si è inserito magistralmente Schopenhauer cogliendo appieno il discorso kantiano articolato in maniera complessa per la verità e ampliando a suo modo le analisi secondo un'altra prospettiva secondo cioè la prospettiva volontaristica e bisogna riconoscere tutta la sua genialità per un'operazione filosofica senza eguali che tu non hai compreso o non hai voluto comprendere neanche la gran parte dell'umanità la comprenderà mai ed è per questo che ne stiamo discutendo qui da diversi anni per quel che mi riguarda la mia morale è la seguente che cos'è bene tutto ciò che accresce il senso di potenza la volontà di potenza e la potenza stessa dell'uomo che cos'è male tutto ciò che deriva da debolezza che cos'è la felicità sentire che la potenza aumenta che si vince una resistenza non soddisfazione ma più potenza non pace universale ma guerra non virtù ma abilità i deboli e i mal riusciti dovranno perire primo principio della nostra filantropia inoltre li si dovrà aiutare a farlo che cosa è più dannoso di qualsiasi vizio l'attiva pietà per tutti i deboli e i mal riusciti il cristianesimo ecco questo io scrivo nell'anticristo di qualsiasi vizio